Un viaggio lungo un anno scolastico per conoscere dall'interno il mondo della polizia e confrontarsi anche con la realtà dei detenuti che hanno deciso di cambiare vita. Un'esperienza racchiusa in un cortometraggio che ha suscitato i complimenti del questore di Taranto Massimo Gambino. Si è chiuso con un incontro nella sede della questura Ionica il percorso di alternanza lavoro che ha visto protagonisti gli alunni del Liceo delle Scienze Umane Vittorino da Feltra e la Polizia di Stato. Un'iniziativa che ha riscontrato il pieno credimento dei ragazzi e suscitato grandi emozioni. Questo progetto che è stato voluto fortemente dalla questura e che oggi vede la sua conclusione è un qualcosa di eccezionale perché permette ai giovani di vedere quotidianamente il lavoro, la mission affidata alla Polizia di Stato e cimentarsi poi in situazioni che potrebbero essere anche sicuramente stimolo e volano per gli stessi ragazzi per un loro futuro. Nel senso che magari qualcuno di loro, come è già accaduto, lo vedremo magari indossare la divisa fra qualche tempo. È raro che istituzioni grandi come questa si mettono così davvero a disposizione e permettano ai ragazzi di vedere che quello che per noi magari adulti è più ovvio, cioè che le istituzioni a governo del territorio non sono istituzioni di controllo e repressione, o meglio, lo sono in estrema limitata parte, ma che sono delle istituzioni che sono al nostro fianco. Abbiamo avuto questa esperienza in collaborazione con la questura di Taranto, sono state 60 ore magnifiche, abbiamo veramente visto tutti gli spazi, tutti gli ambienti della questura, della Polizia, e abbiamo, diciamo, affacciati a questo mondo che era tanto lontano da noi e ora ce lo sentiamo tanto vicino.